Siamo a bordo del KC-767 nel quattordicesimo sorbo dell'aeronautica militare, diretti verso quei siti dove atterreremo tra circa un'ora e mezzo. A bordo ci sono alcuni militari che andranno giù a Kabul a prestare servizio, ovviamente nel momento in cui ci sarà l'insimitrazione degli afghani, ma ci sono anche tanti giornalisti. Stiamo andando anche noi a Kabul, andremo lì nei prossimi giorni e documenteremo quella che è la realtà afghana in questo momento. Come se vede ci sono i talebani che ci ruotano l'aeroporto di Kabul, la situazione è molto difficile, moltissimi afghani tentano di fuggire, tentano di valicare il muro dell'aeroporto, però passa soltanto chi ne ha derinto. Naturalmente vi racconteremo le operazioni da quei siti, ma anche da Kabul.